Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto in anteprima le anticipazioni di My Home My Destini per le puntate che andranno in onda mercoledì 2 agosto e giovedì 3 agosto. In queste puntate, verremo coinvolti nelle vicende di Chibrit e della sua adozione da parte di Medi e Zenet. Benal si presenta a casa di Medi con il test di gravidanza, ma la madre di Medi la invita a tornare il giorno successivo perché stanno festeggiando l'adozione di Chibrit. Questo manda Benal in uno stato di agitazione e, mentre torna a casa, viene seguita da Mugeigan. Le due donne parlano e Mugeigan spinge Benal a frequentare più spesso la loro casa per riconquistare gradualmente l'amore di suo fratello Medi, convincendola che il matrimonio di Medi e Zenet non sia così solido come sembra. Nel frattempo, in cucina a casa di Medi, la madre e la sorella Cemile interrogano Mugeigan riguardo alla conversazione avuta con Benal poco prima. Mugeigan mente dicendo di aver fatto tutto il possibile per scoraggiare l'amore di Benal per Medi, addirittura descrivendo un matrimonio felice con Zenet. Questo crea sospetti in Zelia, la madre di Medi, che continua a diffidare di Mugeigan, convinta che stia tramando contro Zenet. Zenet, alla fine, minaccia Mugeigan dicendole che sarà cacciata di casa se continuerà a ostacolare il matrimonio con Medi. Prima di proseguire se ti va, lascia un bel mi piace ed iscriviti al canale per non perdere le prossime anticipazioni di questa fantastica serie. Ripartiamo. Nel frattempo, Medi raggiunge Benal a casa sua e le chiede spiegazioni sul suo arrivo senza preavviso. Medi le proibisce di presentarsi senza avviso o di inviare messaggi e le chiede chiaramente quale sia il problema. Benal è delusa da questa discussione e non riesce a capire come Medi possa mettere il benessere di Zenet. Una donna che conosce appena, al di sopra del suo. Decide, quindi, di non informare Medi della sua gravidanza e dichiara che da quel momento in poi saranno due estranei. Nel frattempo, Zenep osserva dalla finestra della sua stanza l'accesa discussione tra Medi e Benal, rimanendo senza parole. A casa di Medi, Bayram e Sakine sono sollevati dal fatto che non dovranno più trasferirsi, poiché Medi e Zenep hanno deciso di non divorziare. Tuttavia, Sakine ricorda a Bayram di cercare un lavoro per non sembrare dei parassiti che approfittano del matrimonio con Medi. Più tardi, tornato in camera da letto con Zenep, Medi racconta una bugia riguardo ai problemi di Benal con il proprietario di casa, cercando di non destare sospetti. Zenep, affascinata dal fatto che Medi sia una figura di riferimento per il quartiere, propone di dormire insieme quella notte, rompendo la consuetudine di Medi di dormire in terrazzo per non disturbare Zenep. Nel frattempo, l'incontro tra Faruk e Demine sta per finire. I due sembrano andare d'accordo e Demine sembra desiderosa di una vita diversa da quella nel quartiere. Si capisce che si incontreranno di nuovo sicuramente la stessa sera. Il padre adottivo di Zenep, Ekrem, si trova a casa dell'amante e discute con lei riguardo ai loro piani di partire per l'America. Tuttavia, Ekrem è bloccato perché il controllo finanziario appartiene a sua moglie Nermin. Questo provoca tensione nella discussione e l'amante suggerisce Ekrem di lasciare presto Nermin per stare con lei e la loro figlia Esra. Zenep e Medi hanno finalmente deciso di dormire insieme nello stesso letto, superando un po' di imbarazzo e consapevoli di fare dei passi avanti nella loro relazione. La mattina seguente, Zenep si reca al mercato e incontra Benal. Preoccupata per la sua salute, Zenep cerca di indagare sulla situazione di Benal. Nel frattempo, Emine è sospettosa riguardo all'avvicinamento tra Zenep e Benal, ma Zenep vuole discutere soprattutto del suo sospetto che Emine le stia nascondendo qualcosa, senza sapere che riguarda Farouk. Tornate a casa, Zenep ed Emine preparano la colazione in attesa della visita della supervisora per l'adozione di Kibrit. Yasemin, la nipote di Medi, è triste per aver perso la camera promessa a Kibrit e sfoga la sua rabbia contro sua madre Cemile. Questo svela che Yasemin ha un padre, ma Cemile si rifiuta di includerlo nella loro vita e di ricevere il mantenimento da lui. Cemile respinge fermamente la richiesta di Yasemin di chiedere soldi al padre. Nel frattempo, Medi e Nu parlano sul terrazzo riguardo al loro matrimonio con Zenep e alla decisione di adottare Kibrit. Nu esprime gioia nel vedere che Medi e Zenep non stanno più considerando il divorzio. Medi spiega che, sebbene il divorzio sia momentaneamente sospeso, hanno un piano per non divorziare fino a quando Kibrit non sarà maggiorenne. Così da garantire indipendenza dalla tutela di entrambi i genitori. Medi riceve una chiamata dall'avvocato con importanti notizie. L'uomo che lo ha accusato di maltrattamento di minori è Ecrem, il padre adottivo di Zenep. Nonostante la rabbia di Nu, Medi decide di non affrontare Ecrem subito, poiché quel giorno è cruciale per loro a causa della visita della supervisora. Nel frattempo, Ecrem e Nermin discutono riguardo alla loro situazione e Nermin è preoccupata per Zenep, venendo a conoscenza dell'arresto di Medi a causa della denuncia anonima. Scopre anche dei piani di adottare Kibrit, cosa che non accettano. Durante la colazione preparata da Zenep ed Emine, Bayram annuncia che dovrà cercare lavoro e esce di casa. Tuttavia, l'atmosfera è allegra finché Nermin ed Ecrem arrivano e chiedono subito di parlare con Zenep. Ecrem e Nermin cercano di dissuadere Zenep dall'adozione di Kibrit, sostenendo che sarebbe un errore legarsi ancora di più a Medi e alla sua famiglia. Ecrem, invece, attacca duramente Zenep, mettendo in dubbio il suo giudizio e continuando a considerare Medi un uomo violento e inaffidabile. Medi interrompe la discussione poiché non può sopportare che i genitori adottivi di Zenep la rendano triste, annunciando che da quel momento in poi sarà sempre presente quando parleranno con Zenep. La discussione tra Medi ed Ecrem si intensifica e Nermin se ne va, delusa e ferita da Zenep. Nel frattempo, Bayram è alla ricerca di un lavoro ma viene respinto da un conoscente a causa dei suoi problemi con alcol e gioco d'azzardo. Deluso e triste, Bayram si abbandona all'alcol e gira ubriaco per la città, maledicendo se stesso per i suoi fallimenti. Infine, Kibrit e la supervisora dell'assistenza sociale arrivano a casa di Medi per la visita. Tutto sembra andare bene, ma la visita viene bruscamente interrotta da un Bayram ubriaco e molesto. Medi, Sakine e Nu cercano di risolvere la situazione e allontanarlo dalla sala. Ma la visita è stata rovinata e il futuro di Kibrit sembra compromesso. Zenep si sente in colpa. Delusa e arrabbiata con suo padre per aver rovinato la vita di Kibrit. Questa volta, Zenep non sa se potrà mai perdonarlo. Le anticipazioni finiscono qua. Se il video è stato di tuo gradimento, lascia un bel mi piace ed iscriviti al canale per non perdere le prossime anticipazioni di My Home My Destini. Ciao!